Le bambine sono a pallavolo e io vado a esplorare un nuovo bosco. Parcheggio la macchina nella piazzola di sosta e mi dirigo verso un mucchio di plastica arancione per accoglierle e buttarla via. Ma sorpresa, si tratta di un fungo, l'Auleuria aurantia, nome che significa più o meno buccia d'arancia, questo per via del colore e della forma di questo curioso fungo. Si tratta di un piccolo ascomiccette dal colore arancio acceso, privo di gambo, che prende la forma di copette del diametro massimo di 8-10 cm. La forma può essere spesso irregolare per via della vicinanza di altri esemplari, cresce infatti in gruppi abbastanza numerosi. Gli esemplari più vecchi presentano il margine grossolanamente frastagliato. L'imenio, cioè la parte più esterna, è liscio, di un arancio più carico, mentre la parte inferiore è di solito di tonalità levemente più chiara e può essere pruinosa, cioè come coperta di polvere. La carne è fragile e si rompe facilmente in modo netto e senza sfilacciarsi. Non ha un odore caratteristico. Può avere una colorazione meno carica. Mentre qui vedete un fungo abbastanza vecchio. È un fungo che cresce cespitoso sulla ghiaia dei sentieri, spesso al brodo del bosco di lattifoglio di conifere, esattamente come l'esemplare che ho trovato io, che era immerso, come vedete, nel brecciolino. Fruttifica in tardestate o in autunno. È un fungo considerato come stibile dopo cottura, ma con finalità prevalentemente decorative. Esiste tuttavia la possibilità di confonderla con altre specie non comestibili o tossiche. Si può confondere soprattutto con la melastia cateri, che vedete in queste foto prese dalla rete, che ha un colore molto simile, ma che però presenta una serie di piccoli peli raccolti in ciuffi e disposti lungo l'orlo. Di tutti i funghi incontrati finora, questo è di certo il più curioso e strano. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e lascia un commento. Grazie per avermi seguito. A presto! Grazie per avermi seguito.